In questi giorni c'è il cinema in festa e come al solito sto approfittando alla grande di questa splendida iniziativa che permette di guardare gli ultimi film disponibili in sala a soli 3,50€. Non mi soffermerò sulla prima pellicola che ho visionato, ovvero Trap di Shyamalan, perché è un tale bordello che per me non vale nemmeno la pena spenderci 5 minuti. 5 minuti che invece voglio investire per approfondire il discorso su Speak No Evil, un remake di un altro film di produzione danese-olandese che non ho mai guardato, che però stando alle voci riusciva a migliorare l'originale, che mi aveva intrigato fin dal trailer anche per la presenza come protagonista di James McAvoy, che sembrava dover tornare a vestire i panni di un personaggio schizzoide e psicopatico come gli accadeva in Split, film che ho adorato e che per assurdo è dello stesso Shyamalan. Quando mi sono ritrovato a fine primo tempo di questa pellicola ero davvero gasato, perché sembrava mantenere tutti i presupposti e le aspettative che io mi ero fatto prima di entrare nel cinema. A fine visione invece la delusione è stata davvero tantissima. Per quale motivo? Sembrava che questa pellicola volesse essere una grandissima critica alla società, una grandissima metafora di quella che è la differenza, ad esempio, tra persone che vivono in campagna, persone che vivono in città, i pregiudizi e gli stereotipi che affastellano queste due tipologie, tra virgolette, di persone. Una grandissima critica a quella che è l'ipocrisia, al fatto che le persone possano dipendere così tanto dalla tecnologia, che non riescano a risolvere i loro problemi perché non si parlano, da cui il titolo Speak No Evil, che io avevo inteso come Parlare non è un male. E infatti i presupposti sembravano suggerire questo, ovvero una sorta di thriller horror che volesse presentare questa coppia di psicopatici che utilizzava una sorta di terapia d'urto barra terapia di coppia per migliorare altre coppie che si ritrovavano a conoscere e a precettare nel loro, sempre tra virgolette, covo. Ed effettivamente la prima metà del film mi aveva confermato tutte queste mie aspettative, che poi mi erano aumentate pensando che ci sarebbe stata appunto la classica escalation nella seconda metà fino a un finale magari scioccante, crudo, cattivo, intelligente. Non ho avuto nulla di tutto questo, ahimè, al di fuori appunto della grande interpretazione di James McAvoy che mantiene tutto il film sulle sue spalle. Purtroppo infatti la seconda metà scade subito nella banalità più assoluta. Tutto quello che avevo pensato potesse essere la pellicola non lo è stato. Tutti i sottotesti, tutta quell'atmosfera e quella vena di inquietudine e disturbo che si erano create per i primi 50 minuti svaniscono, evaporano di fronte ad una fase finale della pellicola davvero facilona da thriller da due soldi in cui si scopre semplicemente che la coppia protagonista è formata da due criminali che vogliono svaliggiare e prosciugare i conti in banca delle coppie che rapiscono e magari perché no fregarsi anche i loro figlioletti perché entrambi hanno dei problemi. Il maschio Paddy, interpretato per l'appunto da McAvoy perché ha avuto dei genitori orribili e quindi ha bisogno di affetto da parte di giovani, di persone che possano fungere da figure da figliolo, mentre la sua compagna ha chiaramente una grandissima voglia di maternità ma si annoia subito e continuano a cambiare questi figlioletti di volta in volta. E alla fine quindi è questo l'ultima mezz'ora diventa una sequela di inseguimenti, di martellate sulla capoccia, di violenza che non esplode mai del tutto e non c'è neanche un finale crudo, cattivo che possa stupire perché c'è il lieto fine semplicemente la coppia di turno, riesce a cavarsela, ammazza tutti i cattivoni che sono presenti su schermo, se la cavano e viaggiano felici con la macchina verso l'orizzonte. Quindi per me è stato davvero deludente, poteva essere davvero un grande film che colpisse nel segno e fosse molto di più che un thrillerazzo da strapazzo, ahimè non è stato così e mi dispiace particolarmente. Il terzo film che guarderò sfruttando questo cinema in festa sarà Maxine, il terzo capitolo della trilogia di Ty West, spero che non mi deluda anche quello perché se no davvero andiamo male.